Qui al Santa Chiara Lab crediamo che il dibattito sull'innovazione tecnologica non possa prescindere dal tema della sostenibilità che vogliamo studiare, su cui vogliamo fare ricerca e vogliamo monitorare. Una trasformazione positiva e consapevole della nostra società passa per l'uso consapevole delle tecnologie digitali che devono essere progettate per risolvere problemi, per offrire opportunità e non per creare disuguaglianze. Il Fab Lab è uno dei progetti più longevi del Santa Chiara Lab. Siamo partiti nel 2016 e il laboratorio si è evoluto come uno spazio di coprogettazione, dedicato soprattutto ai temi dell'inclusione sociale, dell'accessibilità, della salute e della sostenibilità. Fab Lab significa Digital Fabrication o, come dicono all'MIT, il luogo dove il movimento Fab Lab è nato, il Fabulous Lab, il laboratorio dove possiamo fare praticamente qualsiasi cosa. ci occupiamo di ricerca, di formazione continua, di scouting tecnologico, ma anche di sviluppo di soluzioni tecnologiche che possono raggiungere un altissimo livello di maturità fino al brevetto. Lo facciamo applicando il massimo della nostra creatività, ma lo facciamo anche con etica e responsabilità, perché crediamo che le tecnologie non siano un fine, ma un mezzo per migliorare la nostra società e per trovare delle soluzioni che mettano davvero le persone al centro. Grazie a tutti, grazie a tutti.